di Napoli però... No, velocissimo, però a parte che non credo che questa norma l'abbia scritta Draghi di notte nella sua scrivania, probabilmente è frutto di un lavoro, lo dico con un po' di cosa, insomma ci sono state delle lobby che hanno fatto le loro pressioni e il loro lavoro dietro le quinti, però detto questo siamo in uno stato di diritto, l'esproprio non è previsto nello stato di diritto, quindi parliamo di... no, vabbè, parliamo di società quotate in borsa, si alza un azionista... No, no, ma non facciamo... se vogliamo fare demagogia... Il profitto di guerra e parassidismo voglio essere proprio molto duro su questo, se tu guadagni su sempre del genere, Luca non fare quello che sei, e che caspita, e basta, no? Ma vuoi stare zitto? Io ti ho interrotto! No, e dici... Io sto dicendo che se vuoi fare demagogia, e vai avanti, va bene... Era il turno di Sannusti, no, ma Alessandro, dai, Alessandro, Alessandro! Ma no, ma con i comunisti non si può parlare, ma cosa vuoi parlare? No, dai... Sì, sì, va bene... Alessandro, te l'hai interrotto, adesso riprendi a parlare, dai, può succedere in televisione... Oh, Gesù... Vabbè, stanno nervosi tutti con le lezioni, andai in pubblicità, va? Grazie! Grazie! Grazie!